Salve a tutti, oggi vi parlerò di questo video Guarda la luna non il dito di Alex Colax, ovvero Alex Semiase questo perché il video in questione continua a riscuotere parecchio successo tra i terapiattisti nonostante sia stato ampiamente smontato sia in un articolo del mio blog e sia da una conversazione avuta con Shedir in una live dedicata all'eclissi di luna il video viene continuamente citato dai terapiattisti come se fosse una prova oramai consolidata del fatto che l'ombra che vediamo sulla luna durante l'eclissi lunari non dipenderebbe da una terra sferica Bene, questa tesi è un'emerita scemenza e il video in questione è una cagata pazzesca scusate il francesismo Bene, vediamo prima il video di Alex Semiase e poi lo commenteremo spiegando anche perché l'esperimento presentato non serve assolutamente a nulla Buongiorno a tutti ragazzi, volevo con voi fare un esperimento per far capire un attimo l'ombra della Terra sulla luna che si verifica durante un'eclissi lunare quando il Sole si posiziona dietro la Terra la Terra crea un'ombra che noi vediamo sempre sulla luna questa ombra è sempre curva quindi si deduce che l'oggetto che proietta questa ombra sul nostro satellite sia curvo o quantomeno sferico ma io vi inizierei l'assoluta mancanza di logica pure semplice nell'affermazione che l'ombra curva su una sfera determina la forma dell'oggetto che la produce infatti insieme volevo farvi vedere qual è la forma che noi vediamo durante un'eclisse lunare è questa ora proverò a fare questo esperimento prenderò questo che non è sferico, curvo o rotondo questa è la Luna questa sarebbe la Terra in teoria e dietro c'è il Sole vediamo un po' come potete vedere l'ombra che si proietta su questa Luna è curvo ma l'oggetto che produce questa ombra curva non è necessariamente una sfera grazie arrivederci bene abbiamo capito il tenore di questo video in pratica lui attraverso un'arancia e un cartoncino vorrebbe dimostrare che l'ombra curva non è una prerogativa di un oggetto sferico ma a me se non concesso che questo sia vero e nel caso specifico di Terra Luna è totalmente sbagliato come vedremo a breve ma lui sta per caso dimostrando che l'ombra curva non può essere generata da un oggetto sferico? cioè sta portando effettivamente delle prove tangibili per le quali l'ombra sulla Luna non può essere generata da una Terra sferica? assolutamente no cioè questa non è una dimostrazione quando uno fa una dimostrazione fa tutta una serie di ragionamenti che eliminano tutte quelle ipotesi che non si reggono in piedi ma l'ipotesi della Terra sferica che genera l'ombra sulla Luna non è assolutamente intaccata da questo video questa non è una dimostrazione questa non ha proprio una base logica non è assolutamente nulla oltre al fatto che i ragionamenti fatti sull'ombra sono totalmente campati in aria e andiamo a vedere il perché noi sappiamo che per avere un'ombra occorrono almeno tre elementi ci serve una fonte luminosa una superficie ricevente e l'oggetto del quale viene proiettata l'ombra però in realtà ci dimentichiamo sempre che ne esiste un quarto di elemento molto importante che è il punto di vista è vero che la forma dell'ombra dipende molto dai tre elementi appena citati però in realtà dipende anche dalla posizione dalla quale la stiamo guardando nella scena se noi spostiamo il nostro punto di vista vedremo anche la forma dell'ombra cambiare ebbene, esiste in realtà una posizione molto particolare che è quella rappresentata sulla destra ovvero se noi allineiamo la vista la direzione dello sguardo alla direzione della proiezione della fonte luminosa la forma dell'ombra proiettata non dipenderà più dalla superficie ricevente questo è tanto più vero quanto il punto di vista sarà distante dalla superficie ricevente in maniera da minimizzare gli effetti prospettici per capire meglio quanto appena detto ho realizzato una simulazione in un software 3D ho inserito nella scena una fonte luminosa a raggi paralleli una sfera della quale viene proiettata l'ombra e una serie di parallelepipedi ad altezze diverse che costituiscono la superficie ricevente dopodiché ho creato due situazioni diverse una con una telecamera che guarda verso la zona dove si trova l'ombra da una posizione casuale e poi allineandola invece alla fonte luminosa qui di fianco potete vedere il primo caso dove capirete che è abbastanza difficile se non impossibile indovinare dall'ombra qual è la forma dell'oggetto che l'ha generata la cosa è totalmente diversa invece se andiamo ad allineare appunto la telecamera secondo la direzione dei raggi luminosi come potrete vedere in questo caso la superficie ricevente non influisce minimamente sulla forma dell'ombra che denuncia assolutamente ed esclusivamente la sagoma dell'oggetto che è stato proiettato cerchiamo di capire adesso cosa succede durante l'eclissi di luna abbiamo una situazione per la quale sole, terra e luna sono pressoché allineate i raggi del sole stanno arrivando in maniera parallela e chi si trova nell'emisfero della terra in ombra sta guardando l'eclissi lunare secondo una direzione concorde a quella dei raggi solari non vi fate forbiare da questo disegno perché sembra che la luna sia molto scostata dalla direzione dello sguardo perché questo è un disegno fuori scala per capire meglio questo ho riportato le reali proporzioni della terra e la luna e la loro distanza per capire che chi si trova in qualsiasi punto della terra sta praticamente guardando seguendo sostanzialmente la direzione dei raggi solari vediamo adesso che cosa fa Alex Semiase nel suo esperimento ignorando totalmente i principi appena enunciati se osservate l'ombra del cartoncino notate che la luce proviene dall'alto quindi la direzione della luce è totalmente discorde dalla direzione della ripresa che è ovviamente ortogonale all'immagine quindi questo esperimento non ha veramente nulla a che fare con quello che succede durante un'eclissi lunare capiamo meglio quello che fa Alex Semiase e come avrebbe potuto ottenere un risultato diverso posizionando la telecamera secondo la direzione della luce anche qui ho fatto una simulazione questo è il primo caso che è del tutto simile a quello presentato da Alex Semiase quindi che cosa ho? ho una fonte luminosa dall'alto e ho una telecamera che sta riprendendo la scena secondo un'altra direzione come potete vedere l'ombra che viene proiettata da un elemento rettangolare si incurva ma cosa succede se noi allineiamo la telecamera secondo la direzione della luce vedete che quello che prima era curvo adesso si raddrizza e quindi la proiezione dell'ombra non dipende più dall'oggetto sulla quale viene proiettata ovviamente qualcuno solleverà il fatto che queste immagini sono state realizzate a computer con grafica CGI e che quindi non rispecchiano la realtà quindi io vi lascio con il bellissimo esperimento di Shadir che conferma totalmente quanto detto fino ad ora spiega un po' che cosa hai fatto ah sì 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 giusto giusto allora io ho fatto questa cosa qua ho creato una scena di ripresa dove metto una sorgente di luce che è una pila poi a 7,80 m ci metto un pallone da basket poi io sono a circa 1,80 m dal pallone da basket utilizzo delle formine con incollato il cellulare adesso vi mostro allora uso formine di questo tipo qua con il forellino per agganciarci il telefono questa è la sorgente di luce il cellulare appoggiato così in modo che dal foro passi la camera del telefono queste sono le varie formine l'ho utilizzato e niente questa qui è la scena allora a destra c'è la vista di lato mentre a sinistra c'è il punto di vista è la ripresa della camera quindi come si può vedere sulla destra stiamo vedendo una telecamera che non è allineata alla proiezione della luce mentre sulla sinistra vediamo la ripresa della telecamera che sta dietro la formina eccoci qua esatto quindi quella che si vede qui è proprio l'ombra che fa il cartoncino sulla 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 palla come come vedete praticamente il fatto che la la palla sia sferica non influisce assolutamente sulla sulla forma del non deforma l'ombra dell'ossacchiotto perché perché la la telecamera sta guardando in maniera allineata rispetto alla proiezione della luce sì poi volevo mostrare anche quello con il cartone piegato dietro vediamo se lo trovo che è qua la proiezione sembra quasi surreale sembra che addirittura la sagoma si trovi davanti alla fotocamera sì davanti alle camera allora ecco qua questa è la forma naturalmente questo qua l'ho fatto dentro casa si può immaginare che se sono molto distante della sorgente luminosa i raggi arrivano abbastanza paralleli per cui il punto di vista del telefonino o dell'oggetto che proietta l'ombra è a bordi più dritti comunque qua di lato si può vedere come l'ombra effettivamente prenda la forma dell'oggetto mentre davanti si specchia quella sua originale poi va bene avevo fatti un bel po' perché quella sera era a dicembre ancora poi non ho mai avuto tempo di farci dei video per capire scedirsi è messo anche a una distanza relativamente vicina sì la proiezione la proiezione della terra sulla luna cioè la proiezione è proprio è quasi proprio a raggi a raggi paralleli sì in conclusione il video di Alex Semiase è una scemenza totale lui pensa di aver confutato una prova che sta in piedi da oltre 2000 anni attraverso un esperimento che non ha alcun senso e che non ha alcuna base logica come invece avete potuto vedere dall'esperimento di Scedir se noi ci mettiamo con la telecamera in maniera concorda alla proiezione della luce vediamo un'ombra che non dipende dalla superficie ricevente ed è la stessa situazione nella quale osserviamo l'ombra proiettata sulla luna durante l'eclissi lunari ed è per questo che l'ombra che vediamo non può essere che di una terra sferica penso di aver spiegato abbastanza bene la questione spero che chi deve capire capisca e ci vediamo alla prossima